Buongiorno, sono Pierluigi Pellini e insegno letteratura italiana contemporanea all'Università di Siena nel Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne. Oggi vorrei parlarvi di Mastro Don Gesualdo, del secondo grande capolavoro di Verga, il primo essendo in malavoglia, pubblicato nel 1881. Mastro Don Gesualdo esce nella sua versione definitiva nel 1889 ed è un grande romanzo verista sulla società siciliana, ma è anche un grande capolavoro della letteratura europea moderna. In questa breve chiacchierata, poco più di mezz'ora, non potrò certamente fare un'analisi complessiva di tutto il romanzo, ma vorrei soffermarmi su alcuni punti e su alcuni passi che ci aiutano a collocare Mastro Don Gesualdo appunto nella storia del romanzo europeo, magari suggerendo anche agli studenti che stanno preparando la maturità alcuni possibili collegamenti che potrebbero essere utili appunto per l'esame di maturità. Il libro ha avuto una gestazione molto lunga. Verga ha iniziato a pensare a Mastro Don Gesualdo subito dopo aver pubblicato in malavoglia, infatti nelle novelle rusticane uscite nel 1883, alcune novelle prefigurano già situazioni e personaggi che ritroveremo nel Mastro. In particolare il protagonista della novella La Roba, Mazzarò, ha già molti tratti che saranno poi di Gesualdo, ma Verga fatica a scrivere il suo libro e solo nel 1888 riuscirà a pubblicare a puntate sulla rivista Nuova Antologia una prima versione del romanzo, molto diversa da quella che leggiamo noi oggi, che è invece l'edizione Treves del 1889. Tra i manoscritti di Verga c'è un primo abbozzo della storia di Gesualdo sotto forma di cronologia, una cronologia con 26 date. Forse le vedete un po' in piccolo, ma a me quello che interessa sottolineare è proprio che Verga aveva l'intenzione di raccontare tutta la vita di Gesualdo, dalla nascita nel 1888, poi 1797, infanzia, eccetera, fino alla morte nel 1861. Nel testo definitivo in realtà morirà molto prima, morirà subito dopo la rivoluzione del 48, ma soprattutto tutta questa parte relativa alla nascita, all'infanzia, alla giovinezza, scomparirà completamente. Il testo definitivo inizia nel 1820. Allora, cosa voleva raccontare Verga nella prima parte di Mastro Don Gesualdo? Voleva raccontare una storia picaresca. La storia di un ragazzo che lavora sulla chiatta col padre, poi segue un marciaiolo ambulante, poi cambia ancora mestiere, poi finisce addirittura in galera, poi ritorna dal padre, finalmente si mette a fare il manovale e poi da manovale diventa appunto muratore e poi si mette in proprio, imprende piccoli appalti, cioè diventa un imprenditore in proprio, si arricchisce e nel 1821 allarga le sue speculazioni. Che cosa prefigura questa cronologia? Da un lato appunto un racconto picaresco, il racconto picaresco che ha come grande modello Lazario de Tormes, romanzo spagnolo della metà del Cinquecento, molto bello. È la storia di un ragazzo che vive alla giornata, che fa tanti piccoli lavoretti, più o meno legali, che va in giro per le strade in cerca di fortuna, senza una vera trama, ma appunto accumulando tutta una serie di episodi più o meno drammatici, più o meno divertenti. Poi questo romanzo picaresco improvvisamente diventa un romanzo di formazione. Che cos'è il romanzo di formazione? È un genere tipicamente ottocentesco in cui viene raccontata la storia di un giovane che cerca di inserirsi nella società, che cerca di far fortuna. Un giovane molto spesso povero e intelligente che cerca di inserirsi nei meccanismi della nuova società borghese e di diventare parte delle classi dominanti. A volte gli va bene, a volte la formazione riesce, come nel capostipide del genere, che è il Billelmeister di Goethe, a volte invece le cose vanno a finire male, per esempio nel Rosso e Nero di Stendale il protagonista finisce sul patibolo, ma in ogni caso il romanzo di formazione racconta la storia di un giovane che cerca di inserirsi nella nuova società borghese, cerca di fare fortuna. È la storia molto spesso di un self-made man. Questo voleva raccontare Berga, voleva raccontare come con grande intelligenza, con enorme lavoro, magari anche con qualche sotterfugio, qualche scorrettezza, il povero manovale Gesualdo diventa ricchissimo. Ma questa struttura, questo tipo di racconto presuppone una forte identificazione del pubblico, dei lettori con il protagonista, perché anche se magari l'arricchimento avviene in modo discutibile, scorretto, suscita in noi una voglia di identificazione, ammiriamo l'intelligenza, la forza, la capacità di lavorare del personaggio, il personaggio diventa inevitabilmente almeno in parte simpatico. Ecco, Berga si rende conto che non voleva raccontare né una storia picaresca né una storia di formazione. Aveva già scritto tutta una serie di avventure di Gesualdo bambino, le stralcia e ne fa una novella, la novella Vagabondaggio, che contiene appunto le vicende picaresche di Gesualdo, e invece cancella completamente il racconto dell'arricchimento. Berga non vuole raccontarci l'epica della roba, l'epica del borghese arricchito, non vuole mostrarci l'aspetto eroico dell'accumulazione capitalistica, vuole mostrarcene invece l'aspetto tragico. Per questo ci mostra Gesualdo ormai già ricco. Per questo scardina completamente quel progetto con 26 date. Già nel Mastro di Gesualdo nel 1888 abbiamo solo 16 capitoli, nel testo definitivo abbiamo quattro parti, la prima più o meno ambientata nel 1820, la seconda nel 1821, la terza nel 37-38, gli anni del Colera, la quarta nel 48, l'anno della rivoluzione. Fra le varie parti ci sono delle lissi, cioè dei vuoti narrativi. La vita di Gesualdo non viene più raccontata in modo lineare, come di solito avveniva nel romanzo ottocentesco, come una parabola lineare e dotata di un senso complessivo. La vita di Gesualdo viene frammentata in pochi momenti. Questo è un elemento di fortissima modernità strutturale di Mastro di Gesualdo, che in questo modo si proietta già verso il Novecento. Non una vita unica, intera, lineare, ma una vita raccontata per frammenti, per blocchi separati da un vuoto, da un ellissi. Ma già nei primi capitoli della parte prima, vorrei parlare in particolare del famosissimo capitolo quarto, che racconta una giornata lavorativa di Mastro di Gesualdo, su cui rinvia un saggio molto bello di Romano Luperini, che pure ha insegnato fino a qualche anno fa nel mio dipartimento a Siena, gli incontri di Gesualdo nel suo volume Verga Moderno. Ecco, in questo racconto di una giornata di Gesualdo vediamo Gesualdo correre da un posto all'altro nei dintorni di Vizzini per seguire tutti gli appalti di cui è titolare e ovunque trova gli operai o che non lavorano o che non lavorano bene e, vociando, gridando, li costringe a rimettersi al lavoro. Per esempio, qui costringe i suoi operai a montare una pesantissima macina di un frantoio, a rischio ovviamente di gravi incidenti sul lavoro, e con questa sintassifrante parlata, in cui è un testo molto teatrale Mastro di Gesualdo, i personaggi gridano, parlano, e Gesualdo nelle prime due parti del romaggio è sempre vociante, sempre sicuro di sé. Bravo, ora fate il capomastro, datemi la stanga, io non ho paura, intanto che siamo a chiacchierare il tempo passa, la giornata corre lo stesso, è come se gli avessi rubati i miei soldi, eccetera. Qui quello che mi interessa sottolineare è proprio questo concetto che noi riassumiamo nel detto per noi ovvio e banale il tempo è denaro, ma qui per la prima volta nella letteratura italiana Verga lo mette in scena con questa forte evidenza. Il tempo passa, la giornata corre lo stesso, e tutte le energie del capitalista, tutte le energie degli operai devono essere completamente assorbite nel produrre ricchezza. Gesualdo badava ogni cosa, girando di qua di là, rovistandone i mucchi di tegole, di mattoni, controlla tutti. Uno dei suoi operai lo voleva trattenere a mangiare perché era quasi mezzogiorno con un sole che scottava e lui dice di no, partire subito per andare al cameni, ci vogliono due ore o altro da fare, mi vedrete comparire quando meno ve lo aspettate. Allora due cose voglio sottolineare in questo passo. Innanzitutto è il fatto che i bisogni fisici scompaiono per il capitalista. In questo Verga riprende un tema già presente in un bellissimo racconto di Balzac, Gopsecchi, che è un grande avaro e questo grande avaro desidera solo i soldi, desidera solo le pietre preziose, è come se se le mangiassi, tutti i suoi desideri, tutta la sua energia libidica convergono solo ed esclusivamente sulle pietre preziose, sui soldi. Così anche Gesualdo. Gesualdo cancella tutti i bisogni del corpo, il suo corpo è completamente risucchiato dal desiderio di arricchirsi, di aumentare il suo capitale e le sue terre. E la seconda cosa, questo mi vedrete comparire quando meno ve lo aspettate, che è una minaccia quasi blasfema direi, perché Gesualdo riprende quasi alla lettera le parole del Vangelo. Si presenta come se fosse Dio, la morte che arriva quando meno ve lo aspettate, è il Dio denaro, il Dio denaro a cui tutti si devono sottoporre, sottomettere. Anche il paesaggio, quando Gesualdo riparte per tornare al paese, il paesaggio assume una connotazione infernale. Questo paesaggio siciliano bruciato dal sole, una giornata estiva di canicola nel burrone fra i due monti, sembrava di entrare una fornace, il paese in cima al colle arrampicato sui precipizi, disseminato fra rupi enormi, minato da caverne che lo lasciavano come sospeso in aria, nerastro, rugginoso, sembrava abbandonato, eccetera. Ecco, uno scenario infernale, uno scenario da locus horridus, e infatti a un certo punto un povero vecchio carico di manipoli, cioè di fascine, sfinito, si mise a borbottare. O dove andate, vos signori, a quest'ora? Avete tanti denari e vi date l'anima al diavolo. Ecco, la nuova divinità del denaro prende l'anima, diabolicamente, prende l'anima del capitalista. Qui c'è anche il mito del mezzogiorno, del mezzogiorno infuocato, del demone meridiano, il momento in cui soltanto i demoni vanno in giro per le strade. Ecco, Gesualdo non si ferma. Solo la sera, arrivando a una sua campagna, la canzieria, incontrerà Diodata, la sua amante, che gli vuole bene, veramente, che è affezionata a lui e che è l'unico residuo, Diodata, della mentalità del malavoglia e dell'idea di fedeltà alla tradizione, alla famiglia, alla terra. Diodata è caninamente fedele al suo padrone e amante, ma Gesualdo la deve abbandonare, deve sposare una nobile. Che vuoi? Non si può far sempre quel che si desidera. Non sono più padrone, come quando ero un povero diavolo senza nulla. Ora c'ho tanta roba da lasciare, non posso andare a cercare gli eredi di qua e di là per la strada o negli ospizi di Trovatelli. Notate che Gesualdo, con Diodata, ha avuto due figli che sono stati messi per l'appunto nell'ospizio di Trovatelli, ma ovviamente nella mentalità dell'epoca quelli non potevano ereditare. Ora Gesualdo ha dei doveri nei confronti della roba, deve fare un matrimonio importante con una nobile, con una trao, bianca trao, per poter lasciare i suoi averi ai figli e in particolare alla figlia Isabella che naturalmente, come saprete, forse se conoscete il libro, per ironia feroce, ironia della sorte, non è in realtà figlia sua perché Gesualdo può sposare una nobile, Gesualdo che è mastro don, cioè don notabile, ma è anche mastro, cioè artigiano, non è un vero notabile, può sposare una nobile solo perché questa nobile è completamente squattrinata e anche disonorata perché ha avuto una storia con il suo cugino Nini Rubiera. E dunque anche l'affetto di Diodata non fa più per Gesualdo, non può più goderne, ormai non è più padrone. Il vero padrone è la logica dell'accumulazione capitalistica, la logica della roba. Saltiamo alla parte terza. Gesualdo è convinto che Isabella sia sua figlia, in realtà appunto detta è figlia di Bianca ma ha concepita prima del matrimonio con Nini Rubiera e con la figlia Bianca non riesce ad avere un rapporto intimo. La figlia è tale quale sua madre, ha sangue nobile, è disgustata dalla barba ispida, dalle mani callose del padre. Così il pesco non si innesta sull'ulivo, questa meravigliosa similitudine che riassume il senso di un matrimonio fallito. L'ulivo, nodoso e rustico è Gesualdo, il pesco è la nobile, fragile, tisica, bianca e Isabella appunto è molto simile alla madre, non tisica per sua fortuna, e non riesce proprio fisicamente, qui c'è tutta l'idea ottocentesca, positivistica del sangue, fisicamente non riesce ad avere un rapporto con Gesualdo. Tante punture di spiglio, la stessa cattiva sorte che gli aveva attossicato sempre ogni cosa, giorno per giorno. Ecco, accumulare un grandissimo patrimonio non dà soddisfazione, non dà gioia a Gesualdo, gli impedisce di avere rapporti sia con la sua amante di Odata, sia con la sua nuova famiglia, perché appunto non ci può essere nessuna condivisione, perché sono troppo diversi, e poi rifletteva che ciascuno al mondo cerca il suo interesse e va per la sua via. Così aveva fatto lui con suo padre, così faceva sua figlia, così deve essere. Si metteva il cuore in pace, ma gli restava sempre una spina in cuore. Questa ripetizione di cuore non è una sciatteria di Verga, questa è una cosa tipica del romanzo naturalista e verista, quello di ricorrere alle frasi fatte, alle espressioni stereotipate, si metteva il cuore in pace, ma in realtà la spina rimaneva, continuava a soffrire. Ma cosa sta dicendo qui Gesualdo? Sua figlia lo ripuglia, lo rifiuta. Ma Gesualdo dice, in fondo ho fatto anch'io la stessa cosa con mio padre, il suo padre Mastronunzio è un incapace e lui l'ha abbandonato, è andato per la sua strada e ha fatto fortuna. Così faceva sua figlia, così deve essere. Allora, questa frase in realtà è una ripresa proprio testuale di un grande romanzo di Zola, La Terre, che Verga ammirava molto, pubblicato poco prima nel 1887, dove Zola mette in scena un vecchio contadino, Fouin, e i suoi tre figli che gli portano via, a cui lui dona i suoi averi e che poi praticamente lo lasciano quasi morire di fame e alla fine addirittura uno dei tre figli lo uccide. E Zola dice esplicitamente che si è rifatto alla tragedia di Shakespeare, al re Liar, che come ricorderete appunto abbandonato dalle figlie a cui ha lasciato il regno e gli averi, fa una misera fine appunto nella follia e nella disperazione. Ecco, qui nel rapporto fra Gesualdo e Isabella convergono due cose. Converge un tema di lunga durata antropologica, quella dell'ingratitudine dei figli appunto che troviamo nel mondo nobiliare di Shakespeare, che troviamo nel mondo contadino di Zola e che ritroviamo qui nel mondo borghese di Gesualdo. Ma anche una specifica declinazione borghese di questo tema e cioè il fatto che ormai ciò che conta sono soltanto gli interessi e soltanto l'interesse individuale e personale. Dunque, io credo che questo succeda molto spesso nella grande letteratura. Quando un testo riesce a mettere in scena al tempo stesso un tema di lunga durata antropologica, l'ingratitudine dei figli e una sua precisa declinazione storica, ecco che nascono i capolavori. Ma la cosa più straordinaria qui è che Gesualdo accetta questa logica. Così deve essere giusto che mia figlia mi tratti male. Perché ciò che conta è solo l'interesse dell'individuo. E dunque, questo lo dico in un modo un po' rapido perché bisognerebbe un punto importante che andrebbe approfondito molto, ma la logica del romanzo, la logica del romanzo ottocentesco, è spesso la logica di uno scontro di valori diversi. I giovani rivoluzionari e i vecchi reazionari, il rosso e il nero di Stendhal per esempio, uno scontro di ideologie, di punti di vista sul mondo diversi. Qui non abbiamo nulla di tutto ciò. Qui abbiamo una condivisione. La vittima, Gesualdo è la vittima, condivide la logica che lo fa soffrire. Dice è giusto che mia figlia faccia così e però la spina nel cuore gli resta. In questo passiamo appunto da una logica romanzesca di azione e di contrapposizione fra punti di vista diversi sul mondo, passiamo a una logica tragica e bloccata. E infatti tutta l'ultima parte di Mastro Don Gesualdo è una successione di eventi, di eventi tragici. Gesualdo, l'abbiamo detto, nelle prime due parti del romanzo è sempre sicuro di sé, è vociante, sopra le righe, comanda sempre. A partire dalla terza parte non trova più le parole. C'è tutta una serie di scene, credetemi sulla parola o andate a cercare del testo, ora non ho il tempo di fare tutto l'elenco, in cui Gesualdo rimane senza parole quando sua sorella gli chiede l'aridità del padre. Il padre era nullatenente, la sorella però, la sorella Speranza, partendo dal presupposto che tutti i beni della famiglia appartengono al patriarca, quindi un'idea arcaica, malavogliesca diciamo, quando muore Mastro Annunzio, il padre di Gesualdo dice, dividiamoci a metà i beni, come i beni li ho fatti tutti io, il mio padre non aveva nulla, e Gesualdo però rimane senza parole. Quando Isabella ha un amorazzo, un flirt, diciamo, con un cugino povero, con Radino Lagurna, anche lì Gesualdo rimane senza parole. Sempre più spesso Gesualdo deve mandar giù, mandar giù l'amaro, i bocconi amari, come diceva nel passo che abbiamo letto prima, e con una spiegazione, naturalmente per nulla scientifica, ma diciamo così metaforica e immaginaria della malattia, sono questi bocconi amari mandati giù che gli procurano il tumore allo stomaco di cui muore. E per concludere io vorrei proprio soffermarmi un po' più a lungo sulla scena famosissima, bellissima, della morte di Gesualdo. La morte di Gesualdo è una di quelle scene numerose che cambiano completamente nel passaggio e dalla versione del 1888 alla versione definitiva. Guardiamo molto rapidamente cosa succedeva nel testo dell'88 pubblicato sulla rivista Nuova Antologia. Gesualdo ormai è a Palermo perché il genere e la figlia l'hanno in qualche modo portato a Palermo con la scusa di curarlo, in realtà era per impedirgli di fare il testamento, per controllarlo. Isabella tardava a rincasare, capiamo, non è detto esplicitamente, ma capiamo che Isabella ha degli amanti che litiga col marito, eccetera. Il medico, venuto a l'ora solita, trovò un peggioramento rapidissimo del malato. Dopo qualche giorno di calma relativa, ordinò il viatico, l'estrema unzione. Il duca corre in fretta, contemporaneamente c'è per la strada un fissuro di folla mutinata, siamo nel 48, la rivoluzione, e il duca quando arriva dice avvertite la duchessa di salire qui subito. Essa arrivò ansante, stranunata, col velo imperlato del suo anedito dinanzi al viso e gli schizzi di fango sul mantello foderato di pelliccia, schizzi ovviamente anche metaforici, lei arriva ovviamente, lo intuiamo dall'alcova di un amante, arriva così tutta scarmigliata e di là dall'uscio si sente Gesualdo che urla, che strilla, sentite quegli urli, vogliono la mia roba, tutti quanti, eccetera. Per l'ultima volta Gesualdo ritrova la parola con questa tipica sintassi franta, interballata dai puntini sospensione, in delirio di agonia, alquanto melodrammatico. È una scena melodrammatica quella della morte di Gesualdo nel Mastro di Gesualdo nel 1888. Cambia tutto radicalmente nella versione definitiva. Gesualdo ha provato più volte a parlare con la figlia e, ancora una volta, non trova le parole. Ogni volta che sta per dire qualcosa di importante si blocca. c'è una messa in scena di un tema dell'incomunicabilità, anche questo molto moderno, noi siamo abituati a pensare all'incomunicabilità come un tema esistenzialista novecentesco. Ecco, questa impossibilità di dire le cose profonde è un tema che c'era già in Flaubert e che Verga mette in scena meravigliosamente, appunto, nella terza e nella quarta parte di Mastro Don Gesualdo, dove il protagonista non riesce mai a dire quello che veramente ha dentro e questo non poter dire finisce metaforicamente per ucciderlo. Mia figlia, borbottò Don Gesualdo, con una voce che non sembrava più la sua, chiamatemi mia figlia. Ah sì signore, ora vado a chiamarlo, rispose il domestico e torno a coricarsi. Gesualdo è nella sua letto di agonia, c'è un domestico che va da lui, ma il domestico naturalmente si guarda bene dall'andare a disturbare in piena notte la duchessa. La figlia di Gesualdo, Isabella, sposata con il duca di Leira, appunto il proprietario di questo bellissimo palazzo a Palermo, duca spiantato che ovviamente vive sui soldi della dote della figlia, quindi anche questi domestici sono pagati con i soldi, con i soldi accumulati da Gesualdo, ma non lo lasciava dormire quell'accidente. Vedete, stilisticamente qui è un discorso in diretto libero, cioè il narratore sembra parlare direttamente, ma in realtà riprende le parole del personaggio. Eh, quell'accidente non mi lascia dormire, dice o pensa il domestico, ma non lo lasciava dormire quell'accidente, un po' erano simili, un po' faceva peggio di un contrabbasso nel russare. E Gesualdo muore, lo stagliere che faceva passeggiare un cavallo malato alzo il capo verso la finestra, mattinata è Don Leopoldo, il maggiordomo, il cameriere è Don, mentre invece Gesualdo è Mastro Don, quindi è come se nella gerarchia, in questa stravolta gerarchia del palazzo nobiliare, un cameriere è più importante di colui che ha fatto tutto, tutta la ricchezza di cui tutti vivono. E nottata pure, rispeso il cameriere sbadigliando, mi è toccato a me questo regalo. L'altro scosso il capo come a chiedere che c'era di nuovo e Don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. Ah, così alla chetichella osservò il cortinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli altri domestici si erano affacciati intanto e vogliono andare a vedere. Di lì è un po' la camera del morto, si riempì di gente in magne, carichi di camice con la pipa in bocca. Quindi nessun rispetto, ovviamente fumare al capezzale di un morto è un segno appunto di disprezzo, di assoluta mancanza di ogni considerazione. Vedete che tutta la scena non è più osservata dal punto di vista del Duca ed Isabella, che sono completamente assenti, stanno dormendo. Tutta la scena è vista dagli occhi, annoiati, scafati, disinteressati, cilici dei servitori del palazzo di Leira. Così nel crocchio narrava le noie che gli aveva date quel cristiano, uno che faceva della notte giorni, non si sapeva come pigliare, non era contento mai. Pazienza servire quelli che realmente sono nati meglio di noi. Ma invece servire uno che è nato manovale, o ancora meno, non va bene. Basta, dei morti non si parli. Si vede come era nato, osservò gravemente il cocchiere maggiore. Guardate che mani. Eh, le mani che si sono rovinate con la calcina, questa tensione tipicamente verista, che non c'era in letteratura prima del naturalismo del verismo, l'attenzione ai dettagli fisici. Che sia così importante vedere come sono le mani. Le mani raccontano la storia di un uomo. E questo ce l'ha insegnato la letteratura naturalista. Prima non ci si badava. Già, sono le mani che hanno fatto la pappa. Vedete cos'è Nascer Fortunati. Intanto vi muore nella Battista come un principe. Muore in lenzuola raffinate, eleganti. Secondo l'ottica dei domestici è fortunato. In realtà è morto tragicamente, disperato, assolutamente solo in quella solitudine totale che è conseguenza della sua stessa ideologia. Proprio perché l'ideologia del capitalismo di cui Gesualdo è appunto il portavoce, prevede che ciascuno sia solo e interessato soltanto al suo benessere economico. Allora, disse il portinaio, devo andare a chiudere il portone? Sicuro è roba di famiglia. E naturalmente non è un caso questa scelta lessicale. Il cadavere di Gesualdo, che è l'uomo che ha fatto la roba, che è l'uomo che ha vissuto per la roba, diventa lui stesso roba. È completamente disumanizzato, completamente ridotto a cosa? È roba di famiglia. Quindi bisogna chiudere il portone in segno di lutto. E adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. Quindi non chiamate subito Isabella come nella versione dell'88 e Isabella corre scarmigliata, eccetera. No, questo rituale aristocratico per cui non si può disturbare direttamente la duchessa. Bisogna andare ad avvertire per via gerarchica la cameriera della signora duchessa. E qui finisce il mastro con Gesualdo. Finisce in sordina, finisce con un distanziamento, finisce con una scena tutta vista dal punto di vista dei domestici. È il passaggio proprio da una messa in scena melodrammatica, drammatica, melodrammatica, quella dell'88, a una messa in scena verista e propriamente tragica. Perché tanto più è un pugno nello stomaco questa scena per noi, quanto più non possiamo accettare il punto di vista di chi ce la racconta, cioè il punto di vista dei domestici. Verga dunque riesce al tempo stesso a decostruire, a sbriciolare la logica del racconto del self-made man, che non è più un'epica dell'arricchimento, ma è una tragedia dell'arricchimento, è una tragedia della roba, e riesce anche a mettere in scena il dramma puntando su quei momenti antropologici forti. Il rapporto padri-figli, abbiamo visto il rapporto con Isarella, la morte, che tendono a suscitare appunto l'empatia del lettore. Di solito in letteratura appunto i sentimenti filiali e paterni, oppure la messa in scena della morte, sono dei momenti di condivisione, qui invece sono dei momenti di distanza, di frattura, di critica. Il testo verista, mettendo in scena un mondo stravolto, ci costringe a riflettere. Non dà giudizi Verga, è l'impersonalità di Verga. Verga non interviene, il narratore non interviene, non giudica, ma la messa in scena di un mondo stravolto in cui gli elementi fondamentali della nostra antropologia sono distorti, ci costringe a riflettere. Lui, conservatore, addirittura reazionario verso la fine della sua vita, ci costringe a riflettere sulle storture di quel modello economico che si stava fermando in quegli anni e che ancora orne e dominante.